Ecco, in questo cespuglio si nasconde probabilmente il nuovo leader del centro-sinistra. Chiediamo se in questi anni in Italia è mancata veramente una sinistra che pensasse ai problemi dei più deboli e come ripartire. C'è nessuno? Ma forse è in riunione e già avrà una riunione e non può rispondere adesso.